Ciao a tutti, oggi a grande richiesta di Luca andiamo a preparare la gorgonzola al cucchiaio. In realtà non faremo la gorgonzola al cucchiaio perché per ottenere la gorgonzola al cucchiaio dovete realizzare una forma di gorgonzola che viene fatta drenare meno, quindi ha più siero e rimane più morbida in sostanza. Noi faremo una cosa diversa cercando di ottenere lo stesso risultato. Ricordatevi che il gorgonzola, quello vero, può essere fatto solo in una certa zona d'Italia, quello che fate in casa voi non potete chiamarlo gorgonzola, altrimenti il consorzio vi sgrida. Io ho fatto già il video di fare un formaggio tipo gorgonzola in casa, qui trovate il link se volete farlo anche voi. Questo è ancora un procedimento diverso. Io utilizzerò la caraffa, a voi non serve, la caraffa è trasparente, mi permette di mostrarvi ciò che accadrà al nostro formaggio, voi potete fare direttamente tutto in pentola. Allora, adesso nella caraffa andrò a mettere un cucchiaio di yogurt, un cucchiaio di gorgonzola e un litro di latte del banco frigo. Qui in Puglia ancora non ho trovato un contadino di fiducia per andare a prendere il latte fresco, quindi utilizzando il latte del banco frigo vi serve dello yogurt per andare a integrare i fermenti di nuovo all'interno del latte. In più le muffe, per dar vita al gorgonzola, potete prendere da un altro gorgonzola, altrimenti vendono gli starter ma fate prima con dell'altro gorgonzola. Io tutte le cose ve le scrivo sotto in descrizione, così se volete comprare su Amazon potete, altrimenti fate come me, supermercato. In più vi servirà il termometro e io andrò a farlo a bagnomaria per mostrarvi il procedimento, altrimenti voi mettete tutto nella pentola. Io adesso metto tutto nella caraffa, poi metto la caraffa all'interno della pentola dove c'è dell'acqua. Quando l'acqua raggiunge i 40 gradi spegniamo e lasciamo riposare. Si riattiveranno tutti i vari muffe e fermenti e andranno a trasformare la caseina, un procedimento che è complicato da spiegare. Si staccherà quindi il formaggio dal siero e verrà a galla. Quindi ci rivediamo quando questo procedimento avviene. Alla prossima! Alla prossima! Dopo otto ore il nostro latte è diventato tipo budino, ha fatto già un po' di siero in superficie. Adesso con un coltello a lama lunga vado a tagliare questa specie di cagliata che si è formata, tagliandola a fette, poi riposiziono la caraffa nella pentola e copro di nuovo e lasciamo così per altre otto ore. La rimetto nella pentola così da avere una temperatura più costante. Alla prossima! Alla prossima! Dopo altre 16 ore, quindi in totale dall'inizio sono passate 24 ore, si può vedere che la cagliata inizia a venire a galla e sul fondo c'è un po' di siero, circa un dito. Adesso metto la pellicola e la lascio così per altre 12 ore almeno a temperatura ambiente. Tenete conto che è inverno, quindi in casa ci sono all'incirca 21-22 gradi. Se lo fate quando fa un po' più caldo, sicuramente il procedimento sarà più veloce. Ci rivediamo tra 12 ore. Alla prossima! Dopo altre 12 ore, quindi 36 ore dall'inizio, da quando abbiamo messo nel latte il gorgonzola e lo yogurt, possiamo andare a drenare la nostra cagliata. Io ho messo un colino, nel colino questo canovaccio, il formaggio all'interno adesso l'abbiamo appeso, il siero andiamo a raccoglierlo se volete rifare questo formaggio, perché la prossima volta al posto di andare a mettere nel latte lo yogurt e il gorgonzola, o la gorgonzola, andremo a mettere il nostro siero. All'interno ci saranno sia i fermenti lattici che le muffe del gorgonzola. Così riusciremo di nuovo a fare lo stesso formaggio. Io adesso lo farò drenare all'incirca un 6 ore, poi regolatevi voi in base ai vostri gusti. Più sta lì, più rimane asciutto. Noi però vogliamo una cosa cremosa da andare a spalmare sul pane, quindi tra 6 ore andiamo a controllare, per poterlo mettere poi in un contenitore di vetro e poi posizionarlo in frigo. Ci vediamo tra 6 ore. Dopo 6 ore togliamo il canovaccio, lo poggiamo su un piatto e con 2 cucchiaini andiamo a togliere il formaggio. Un'altra ragione per cui tenere il siero è che se notate che il vostro formaggio è troppo denso, lo volete un po' più morbido, vi basterà aggiungere un cucchino di siero, mischiare, se non è ancora abbastanza denso, un cucchiaino e così via, fino a quando raggiungete la cremosità che più vi piace. Grazie a tutti. E' già buono così senza il pane. Io ho aggiustato ancora un po' con il sale perché l'altro sale gli ho dato, quindi non sala niente. Ho messo un po' di sale rosa, bisogna anche vedere se è rosa vero o se è soltanto colorato. Comunque regolatevi voi in base ai vostri gusti, un po' più sale, un po' meno sale. Messo nel barattolo, adesso chiudo, posiziono in frigo, mentre qui nell'altro barattolo ho messo il siero. Conserviamo sempre in frigo, la prossima volta che andiamo a fare il formaggio, che ne so, tra una settimana, potete utilizzare questo. Se invece decidete di farlo tra un paio di mesi, vi conviene congelarlo. Occhio però che nel barattolo di vetro, se lo mettete nel freezer, c'è il rischio che scoppia. Cercate di non farlo troppo pieno. Cercate di non farlo troppo pieno. Spettacolo! Poi li mettete sopra anche due noci, col pane fatto in casa, una bomba. In realtà poi ho fatto la degustazione dopo tre giorni. Scusate ma gli altri giorni non ho avuto tempo, ero già impegnato con altre preparazioni. Quindi un frigo si è conservato benissimo. È chiuso nel barattolo, potete tenerlo per un paio di settimane. Come al solito vi incoraggio a iscrivervi al canale. Qua sotto lasciate un mi piace, guardate gli altri video. Qui potete guardare come fare il pane in casa. Ciao ciao!